rezzato rezzato via amici appartamento al piano rialzato molto comodo molto grande molto bello via amici ignari cucina abitabile abitabile grande veramente grande e qua si sta a mangiare in 6 8 persone senza problemi con un bel balcone che mangi fuori estate a primavera anche il balcone sul giardino giardino del condominio ma costa niente che fa manutenzione fra di loro e poi lì c'è il conad c'è il supermercato esci e compri la pappa via amici e dove c'è la zona nuova ignari ma che roba cucina abitabile che talmente abitabile che dura una cifra il filmato soggiorno soggiorno salone sei metri per cinque a che roba grandissimo non trovi più questo qui va bene per 10 persone col balcone anche soggiorno e balcone la cucina al balcone è grande festa appartamento è bello a che roba zona notte ben divisa zona notte ben divisa con due matrimoniali grandi grandi tanta luce e tranquillità due matrimoniali grandissime mia seconda camera piccina due camere matrimoniali grandissime grandissime ma grandi feste e il bagno che grande anche quello posto per lavatrice spazio finestra la vasca ti piace mica la vasca metti la doccia che roba bellissimo in una zona di rezzato bellissima comodissima al garage e la cantina ignari telefonare subito veloci 0 30 2 7 9 1 7 6 5 prezzo a fare si parte a 138 mila 138 mila garage cantina sembri in metri di appartamento alle roba dai a che bevi amici e ho fatto le case nuove del frese correre www.agente immobiliari riuniti 2 col numero.it vedi foto filmati telefona subito per l'occasione corri 0 30 2 7 9 1 7 6 5 ciao neri